Partiamo dalla riete. Quella di oggi non sarà una giornata particolarmente positiva in campo professionale. Dovrete muovervi con molta cautela e, in caso di incertezze, rinunciare a qualche progetto piuttosto che correre rischi inutili. Toro, sarete impegnati su molti fronti e dovrete assumere decisioni importanti in brevissimo tempo. Sul lavoro vi conviene diffidare degli aiuti offerti con troppa generosità da qualche collega. Gemelli, gli astri vi regaleranno un notevole spirito d'iniziativa. Animati da un'incontenibile voglia di fare, vi butterete distinto per affrontare ogni ostacolo. State comunque attenti, le scelte impulsive non possono pagare sempre. Cancro, sarete intraprendenti e ricchi di spirito d'iniziativa. Attenti però, questa non è la giornata migliore per dedicarsi a progetti rischiosi. Leone, oggi alcuni problemi spinosi si risolvono e nuove opportunità si affacceranno all'orizzonte. Insomma, ci sono sviluppi interessanti in vista e l'entusiasmo ovviamente cresce. Vergine, le stelle vi regalano un intuito straordinario nelle questioni di denaro. Saprete individuare le migliori occasioni di guadagno, trovare soluzioni geniali ai problemi del momento, avviare progetti redditizi. Bilancia, è un buon momento per rifarsi in campo economico, entrate migliori di quelle preventivate o un guadagno extra può ridarvi la voglia di lottare. Scorpione, sfruttate la vostra razionalità e la sicurezza in voi stessi per affrontare gli ostacoli che le stelle hanno deciso di mettere sul vostro percorso. Sagittario, la vostra allegria e la vostra disponibilità sono doti particolarmente apprezzate dagli amici e dal partner, il quale non mancherà di ricambiarvi con un affetto ancora più bello del solito. Capricorno, vi farete notare per l'originalità delle idee e le vostre capacità organizzative. Accettate una proposta che, pur gravandovi di responsabilità, vi prospetta un modo più creativo e redditizio di lavorare. Acquario, le stelle di oggi vi invitano ad esprimere un desiderio. L'evento è propizio per portare a compimento i vostri progetti più belli, per chiudere definitivamente quelle porte lasciate aperte solo per obbligo o per pigrizia. Pesci è la giornata giusta per procedere spediti e far rientrare crediti e dar via ad investimenti e acquisti per migliorare il vostro stile di vita. Oggi le vostre aspirazioni professionali vi sembrano più importanti di ogni altra cosa.